Ma quanto sono belli gli apparati del corpo umano? Il sistema circolatorio? Il sistema scheletrico? Il sistema nervoso? Il sistema linfatico? Voglio dire, in quasi tutti i libri scolastici si trovano sempre almeno una o due pagine su tutti gli altri apparati, ma il linfatico? E' fortunato se gli dedicano un paragrafetto in fondo al capitolo, che ogni buono studente di qualsiasi generazione salta rigorosamente. Ma perché il sistema linfatico è sempre così bisfrattato? E' davvero così inutile come le scarne descrizioni che spesso vengono date lasciano intendere? Naturalmente no, certo che no. Ha un ruolo fondamentale, ma per spiegarlo bisogna prima fare un appunto. Affinché i nutrienti presenti nel sangue possano raggiungere i tessuti, è necessario un certo grado di permeabilità a livello dei capillari, le ramificazioni più piccole dei vasi sanguigni. La parete di tali capillari è semipermeabile, ovvero si lascia attraversare dai liquidi ma non dai soluti all'interno degli stessi, che prenderanno altre vie. Quando due recipienti separati da una membrana semipermeabile contengono due liquidi con concentrazione di soluti differenti, si viene a generare la cosiddetta pressione osmotica, che sposta il liquido dal recipiente con concentrazione minore a quello con concentrazione maggiore, in modo da renderli equivalenti. Poiché l'ambiente interstiziale dei tessuti che circonda i capillari è molto più concentrato del sangue, la componente liquida dello stesso tende ad uscire nello spazio interstiziale, causando una condizione nota come edema, in cui tutti i tessuti tendono a gonfiarsi e comprimere le strutture circostanti. Tale processo viene parzialmente compensato dalla presenza nel sangue dell'albumina, proteina il cui compito è proprio quello di compensare il gradiente osmotico generando la cosiddetta pressione oncotica, evitando così la comparsa dell'edema. Questo sistema da solo però non è sufficiente, per cui l'acqua tende ad accumularsi lo stesso. Se solo avessimo a disposizione un sistema di scarico che permette di raccogliere i liquidi in eccesso e convogliarli nuovamente nel fusto sanguigno, ecco dove entra in gioco il sistema linfatico. Esso possiede una rete di vasi sovrapponibili a quella del sistema circolatorio, con capillari che si riuniscono in vasi sempre più grandi. Il suo ruolo è proprio quello di raccogliere i liquidi in eccesso che si accumulano nei tessuti e li convogliano verso il dotto toracico, che, assieme al dotto linfatico destro, rappresentano il punto di comunicazione tra sistema linfatico e sistema cardiocircolatorio. Quindi è questa la funzione del sistema linfatico? Uno scarico secondario? Hmm, parlami di dedudente. Aspettate però, c'è dell'altro. Il sistema linfatico è costellato da delle masse dalla forma vagamente circolare denominate stazioni linfonodali o linfonodi, più spesso conosciuti, e rappresentano la principale sede di avanzamento della risposta immunitaria. A loro interno, infatti, si trovano i linfociti T e B naïve, ovvero che non sono mai venuti a contatto con gli antigeni. Quando un qualsiasi patogeno entra nell'organismo, le APC presenti nei tessuti mucosali, soprattutto, ovvero le antigeni presenti in cell, lo fagocitano ed espongono i suoi antigeni sulla loro superficie. Le APC, a questo punto, viaggiano attraverso il sistema linfatico e raggiungono i linfonodi, dove espongono tali antigeni ai linfociti vergini e, nel momento in cui ne incontrano uno con un corredo anticorpale corrispondente, esso comincerà a replicarsi in maniera esponenziale e si metterà nel flusso linfatico per poi raggiungere il flusso sanguigno, dove si dirigerà verso il distretto sott'attacco. Tale replicazione, se massiva, causa il rigonfiamento dei linfonodi, ed è per questo che, quando abbiamo un'infezione in una determinata regione, i linfonodi lì vicino tendono ad apparire più ingrossati, a volte anche addirittura telesensibili al tatto. Inoltre, in caso di patologie tumorali, quando tali cellule si separano dalla massa principale, possono prendere la via del sistema linfatico ed impiantarsi nei linfonodi vicini, che, ingrossandosi, possono rappresentare un importante campanello d'allarme e, spesso in tumori come il tumore alla mammella, sono il segno principale dello sviluppo di una massa tumorale maligna. Ok, quindi abbiamo sistema di scarico e gestione, della difesa immunitaria, non male direi, però aspettate, c'è ancora dell'altro. Nel sangue sono presenti le cosiddette lipoproteine, il cui compito è trasportare colesterolo e acidi grassi nell'organismo. Ne avete sicuramente già sentito parlare sotto forma di LDL e HDL, ma non vi sono solo queste. In aggiunta si possono identificare le BLDL, ovvero lipoproteine molto poco dense, nome impeccabile, e di bestioni noti come chilomicroni. Questi vengono prodotti a livello della mucosa intestinale per l'assorbimento degli acidi grassi e sono talmente voluminosi da non riuscire a passare nei capillari sanguigni. Per questo motivo vengono convogliate nei capillari linfatici, diametro molto maggiore, e successivamente verranno immessi nel flusso ematico attraverso il dotto toracico, dove subiranno le trasformazioni necessarie ad aumentarne la mobilità. E anche per oggi abbiamo concluso, spero sia stato istruttivo e di vostro gradimento, in caso affermativo mettete mi piace e iscrivetevi al canale, questo mi dice che sto facendo un buon lavoro, e non dimenticatevi di seguirci anche su Facebook e su Instagram, e se vi piacciono i nostri design potete trovare queste belle magliette nel link sottostante. È tutto per oggi, alla prossima!